ma io qua trovo sempre portafogli per terra non è possibile napoli 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 quando devo raggiungere i bassi fondi non parlare di solito no dobbiamo solo entrare nel cerchio non dobbiamo fare niente perché la parata non c'è non è capito che c'è bocoteca ascolta che cazzo vuole però provviste barca ok già sento gente che sta strillando io ci siamo che sta sempre ragazzi di partizione per sto par comp Sul po eastern vedo perché si proponga qui ci dice Telco Cristiano è una misione che c'è un tecchio A malapena Ah ok, no, no, si Eh certo, lui resterà sulla barca Sulla costa a guardare la barca Grazie, eh La fine se ne scappa, capi? Poco, poco, poco La rotina Ah, io mi sono incastrato Morto Sono entré morto Non era una missione con zero stelle Non era così mai l'ha detto lui, fosse come quello che ci ha manato il cavo per suicidarsi Mi stavo guardando invece di fare la missione Ah vabbè ragazzi, cioè possiamo anche correre Perché ti stiamo affrontando, io non capisco Allora andiamo, corriamo Cioè perché la missione è trovare un pacco per Mopuli Mopuli Un pacco, stanno tante scatole bucate in mezzo a stare quello qua, cercando un pacco Oh, poco, poco, volaretti Che cosa fa quello lui? Eh vabbè io sono arrivato quasi davanti qua Cioè ragazzi ho perso la mia arma suprema Cioè qualcosa elettrico da supremo proprio Non so da dove si entra No scherzo, questa è una casa Ma questa è una casa totalmente... Cioè noi dobbiamo entrare qua dentro Eh da qua, non c'è tanto la porta aperta Va bene Non so Marco dov'è Sto cercando di capire perché sta sta cazzo di mira assistita che funziona solo a cazzo di cani per la miseria Cerca di capire come correre e venire da me Si sta arrivando, è arrivando Ecco Marco metto in una lanica Muovi di Divento dentro, ciao Vai Marco sono sti Ciao Marco Si Ciao ragazzi devo prendere Oh mi fanno male da dentro la macchina Eccolo ho preso Cosa lo in mano Eh metterla devi mettere dietro Lo fa apposta, lo fa apposta Un mio personaggio scegli Marco devi salire Ecco mi sono sopra Cioè è possibile il mio personaggio non può sparare quando è dietro Cioè non Io non ci vedo un cazzo Perché c'ho sto parasolo e qua davanti Eh anche io non so perché Qualcuno ha la testa che esce fuori dal parafango della macchia Io tipo e non sto vedendo Dove a scendere Vaga attenzione c'è quello che esplode Spera voglio sparo Ah mi scordi Sto fa è morto Parliamo con Moven Marco vieni Sto arrivando c'è Moven Aspetta sto arrivando eccomi Un'ultima cosa il mare è perfetto e mosso Se si scuote troppo rischiamo di colpire una di quelle mine E finire la storia da storia E finora se Deve andare alla loro officina A portare qualche modifica Allora dove dobbiamo andare Allora dove dobbiamo andare Allora dove dobbiamo andare Allora come me boy Ok Ah doccia casa doccia casa Non riesce a salire un muretto questo Stupido Orco giusto ma come cazzo è possibile No non so io scusate Aveva fatto solo il tetto Davanti che sono notali zombo Soprido Che c'è la combo Io prima l'ho usata Oh stavo il camminatore Quel cos'ho enorme Ho facciato un coltello In testo è morto Così No 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 Dov'e l'ho apparata Nel tenere penuto cerchio Oh Sono morti Durante una vocalista zombie Ma 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 è Sono morti sono morti Sono morti Sono morti Sono morti Sono morti C'è scritto prendi sprang e qua Perché devo prendere la spranga? e dopo dobbiamo prendere sbranchi di ferro per quello non so perché ho perso un'arma ho perso perché non è buono che questo è scemo ok andiamo a portare spagasso negro qua e ci fanno le sbranche se le piccole chiamano il culo ecco bravo a tutte e tre siamo un'intelligenza artificiale che cosa con gino si ritorna da origine grazie ma sta vibrando intanto la cosi sono uscita che fa questo effetto vaporwave c'è un liberatore nel culo e quindi va bene c'è si vanno in dubbi di guerra non gli butti c'è per spiegare trova il padre ci erano fanno quando si stava trasformando di uno zombi l'ha già aperta e l'hanno chiuso là dentro no ma questo non era quello dell'officina è questo è lo padre là lo zio che cazzo era ce l'hanno preso l'hanno chiuso là dentro da morto no semplicemente era infetto l'aveva pure detto è si che hanno fatto l'hanno preso l'hanno chiuso là dentro ma se l'ha chiuso lui là dentro oh che belle zin è l'ha sparato al papà al nonno lo zio mi ricordo chi è ha sparato proprio la foto la tua foto o non sprechiamo proiettili proprio non è so forte ci sono delle urla del laboratorio più in fretta possibile dobbiamo correre non fare finta di fare le cose falle nessuno si è impegnato però di aggiustare ste cazzo di tende qua per chiudere ste porte non di mangiare il suo corpo ma sono tutti uguali non trovo bob ma non c'è tutti quanti tutti li su un po e sono morti e lo che cazzo abbiamo che cazzo c'è noto speriamo ulteriormente quando erano già spacciate i cazzo cazzo non è giusto si fa lungo questo shaman ah è stata una cosa intenzionale quella di ammazzare la sinistra è squartato nessuno è avvenuto aveva quasi fatto il il vaccino per molti anni ok dobbiamo cercare il laboratorio se esiste il vaccino per salvare il culo a tutti bravo rovio adesso ho buttato per terra stai per lasciare l'isola se raggiungerai la prigione non potrei più tornare indietro assicurati di essere tutti pronti salutare quest'isola per sempre ma da una affanculo avete rotto il cazzo avete rotto il cazzo oh le mine oh o oh mi sono mi ha messo nicchia, c'era vicino ma quanti siamo? mi stai dicendo che noi l'abbiamo lasciato tutti che si ammò di tutti quanti quindi se li portano a me mi uccidranno e poi tu mi ha messo la situazione della prigione ragazzi stiamo al 90% della storia e basta se no lo finiamo ragazzi oh chi mi ha penato? stanno fatto cadere a terra oh nooo secondo voi sono stati morti eh vedi oh oh che ora oh oh bella schiena, voglio pure io si questo è fatto da tolgi con l'acqua sto scemo o 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 che il No, non possiamo aiutare l'altro, nulla cosa per vendere, tu per l'altra parte, potremmo potremmo fare un accordo. Bene. Titus Andrinicus. Titus, no, che c'è? Vai, sei. A, e, i, o, 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 i, o. Man, si vado a rinascere con una spesa, un attimo. aspetta marco fermo un attimo ragazze sono le quali si stanno le guardie quelle col casco anti sono morti un po' morte sono andate la reazione di legis procis romanzo bomba d'adorante è arrivato il quante fa o cristo adesso mi ha rotto un po' di coglioni un po' sta bomba aaaah sta malzono sono salvo della magherina ma sai pensare di quelle persone che penso che Michael Jackson sia ancora io secondo me hanno problemi mentali se la devo fare un po' i cazzi loro oh ho trovato Alvaro Sanchez e qua tutto cagato sotto quello con i nomi chi ti è dico taffanculo ok questo cazzo sta cazzo sta eh oddio alè che ci sta è un po' di gente qua fuori ragazzi mi aiutate grazie oh dai vieni venite cazzo è stato un bar dove ci fonda una capa o un proiettile capito muovi ti ho fatto usci let's go che cazzo let's go c'è questo dovrebbe essere l'amico del boss quello fu c'è sta cagà sotto questo è un altro che c'è la cagarella non sa quanti giorni vabbè c'è pure ragione è rimasto là senza mangiare senza vera per 10 minuti mamma per 10 minuti oh ma questo incontra l'uomo sapiens qua dai muovi di cazzo non ti guarda intorno c'è uno zombie no perchè c'è l'uomo sapiens qua no quelli finti delle gioste non capisco no ma c'è un po' che 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 c'è un po'. non capisco no come non ci vuole no ricetta infatti non ci riesci a cercare la gamma quasi non c'è scettato io voglio una vieni qua vieni porta vieni ciao papà fai chiediamo sta cazzo mi ciò vieni la capo è andata seguito che devo livellare ma che vuole sto scioglione però è pronto un umano pioniere ma sei zitto cosa c'è domanda la missione si è legale ma regala ma regalato un bastone da masochista regalato ma regalato cana body metal cana body metal un'arma d'oro questa ma si l'ho preso anche io parlate con questo ma che cazzo di catene ha questo accollo solo le catene ho comprato su amazon comunque quattro quattro su cinque iniziamo andiamo 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 ma usala bene tipo qua usa l'acqua marco questa marco ma che cazzo c'e' anche che c'e' anche tempo proporto un cico contro parte ma ce l'e' quale farno魔 cade centratoёр anno nel fotos c ride tutto sarebbe oro per lui gigante o fama che mi elle io potrà mettere chi mi ha ucciso io un v labels va a pe illons il fatto che il caposo come dice quella mazzana Ah ecco chi mi ha acciso Alessio ma che cazzo però Perché vuole Marco un po' stupido Allora io a Martori era ma sono le guardie che stanno a vedere con gli zombie Quindi fa tutte le munizioni Ma basta ancora, basta ancora le guardie Merda, stupido Fami prendi una bevanda a super alcol Foggi no a chiedermi perché Qua c'è un'altra moto, vedi? Cioè quelle guardie erano le guardie più stupide dell'universo Cioè io voglio vedere di animazione di chi apre la porta a calapate Che bello Potevi scegliere diverse animazioni Oh ma che stavo che vuoi chi è questo? Potevi scegliere tra ben dodici animazioni diverse Ragazzi qui c'è un'altra arma, la volete? Stai zitto, tornati a me stai per rondi sto empreo Oh ce la lascio Oh lei chi vota per Cioè adesso facciamo una petizione per cambiare Un il terzo per giocare Ma che bobbio Ma che cosa vuole questo? Vabbè entrate che vado a dire Io ci dico sì Una guardia senior a questo scatenato di inverno Prendi un pass partuta a una guardia senior Oh madonna ma non tirerla di colpi l'hanno fatto diventata una groviera Marco ma che qua? Tira una monototo là dentro Ok Però addosso eh non... Levatevi dai coglioni Eh levatevi dai coglioni No perché le hai lanciate due? Perché sono coglioni Perché sono due mongoloidi Questi non sono morti Marco la moto devi tirare sotto i piedi guarda Mamma mia ogni volta che facciamo una nuova serie aumenta il mio odio verso questo pezzo di merda di Marco Non è vero Eh Non ci pari in fronte tu nel cazzo Oh è uno zombie Sai è un gioco di zombie Pensavo che ci ci devono sta cavallucci marini Che ci attacca E' un uomo Sapendo chi l'ha sviluppato Piacere lei è il nuovo impiegato Sì insomma Tutti quanti a bordo Lavorano Marco Ma cazzo andai di zombo Io parlo con Kevin Cosa? Cosa? No so io Tempo il fucile è puntato E' un po' Ok Oh sta prendo Ce n'era pronta Ma mantenete la cosa pronta Io c'ho la bombola Ragazzi sta arrivando Io sono sicuro che questo si è dimenticato la pasta Da voi iniziano a arrivare le animali Anche perché poi vedo una strana quantità di bombole Buttare qua per terra Hai visto? Ho detto io Strai Oddio perché dobbiamo proteggere sto scemo di guerra Bello Molto chiara Quando spiega il comandante Comandato l'azione Da Ho approvato a domanda l'azione Dopo Come si è ammattato Ah Cagionate Boccata Ben Bella Se St. Devi smette di Di F Schifoso Abbiamo aperto la porta voglio levatevi dalle palle un po ragazzi ma nessuno c'è la doppietta in effetti mi sa che stiamo al 93 per cento della storia ci stiamo avvicinando ragazzi ho trovato dito questo di tre le spalle mi sono messo paura secondo me questo ma ora porto intenzione la maleducazione la tua figura di merda di ieri sera cioè ci sta tutte evoluzioni possibili immaginabili non ci stanno con le per il revolver possibile corriando sparacoriando le che mi dà ma questo c'è una noccia prima ho venduto perché è inutile il suo martello chi è parte lo contino sclodo ok ci serve da mangiare se non avrebbe detto l'intelligente sulla macchine a prendere del cibo c'è ma qui c'è ma perché non devo fai valiglietti è un attimo sulle moto con l'acqua solo bravo fai non c'è la rossa di maschietto la bomba e di corretto per spazio di solo sull'esca di carne aspetta gioco aspetta sull'esca ecco girato ma manco ha ucciso a tutti quanti ha ucciso manco allora io ora lancio l'esca di carne tu aspetta che vengono tutti quanti lì e poi lanci la moto vabbè la stessa un cazzo letto aiutò io non mi capisco solo c'è il fucilo che spara i proiettili elettrici ragazzi la funzione ragazzi stava uno che gli pesa il culo e c'è la faccia viola chi è è uno che riceverà la moto che ho trovato ora adesso stai molto penso che fanno più male a noi che a loro da quello che sto vedendo aspetta 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 ma 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 te rotti coglioni marco madonna marco e sta zitto non è più aspettata c'è sto solo giù dobbiamo aspettare io non ho fatto niente è morto perciò che ti aspettavo la moto ma va e mori ammazzato guarda oh la vedo c'è una padella prendi ehm mi piace pareggio a questo gioco forse se non stai ingo a muo che dobbiamo fare a stronti forse sei contento ho vietato a frutta così va molto meglio ma vaffanculo si affanculo a soldo dante kitchen pistola pesante super veloce che cazzo è pistola pesante super veloce che cazzo cambia vado a via pure a me però qualcuno si è fottuto la mia arma super shot io ce la mia avrebbe bella questa qua è diverso ragazzi comunque non è normale che ci stanno dando tutte queste cose vai parlate con titus scontro ragazzo ragazzi tutti sforzi marmolio difficoltà 55 punti esperienza 0 quindi è molto probabile cosa qui è l'ultima ma ragazzi facciamo una camminata un pochettino possente visto che l'ultima potrebbe essere l'ultima missione io Totale Ciao tonight down 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 No, no, no.